Amici belli, un buon pomeriggio dalla mia nuova casa che sto cercando da solo di lavare e pulire perché domani arriva la roba dall'Italia e quindi avvantaggio la mia ragazza, faccio trovare già la casa, diciamo poeta, poi siamo maschi, diciamo noi non è che siamo professionisti nel pulire. Video della giornata, mister, mi metto in ginocchio mister, stasera faccio giocare in titolare, stasera cerca di mettere la miglior formazione possibile perché dato che dopo le ultime, l'ultima, tra l'altro l'unica amichevole che abbiamo fatto, siamo usciti sconfitti malamente con loro in merda, non vorrei che stasera qui si parlasse addirittura di stagione fallimentare, quindi mister, mi metto in ginocchio mister, cerca di schierare la formazione titolare stasera, veramente, giochiamola come fosse una finale, non dico di coppa campioni perché siamo sfortunati, una finale di coppa Italia, ma boh, io stasera sentire in un momento in cui fosse la Juventus, nel caso perdiamo anche questa amichevole, fare i drammi, sinceramente anche no, vorrei almeno che cominciassi il campionato prima di sentire le critiche, quindi almeno la amichevole fatecela vivere in pace, mister, metti la miglior formazione, mi metto in ginocchio, metti la miglior formazione, metti la miglior formazione, amichevole, metti il vizio, metti tutti quanti, metti i turambo, metti i da class noi, tutti, non di permettere di schierare come l'altra volta il primo tempo, che poi, una cosa va detta, ragazzi, ci sono squadre che hanno fatto già cinque, sei amichevoli, questa non è ancora la seconda amichevole, cioè, già sono poche le amichevole che facciamo, quindi schieriamo la miglior formazione possibile, se è possibile stasera, ok mister, che la tifosica di da Juventus è molto molto strana, detto questo ragazzi, sempre fino alla fine, fatemi un po' lavare la terra, fatemi far finta di fare qualcosa, ragazzi, iscrizione al canale e ci vediamo nel post partita di questa sera, un bacio.